Comissario, davvero un risultato dilagante, un risultato che in realtà conferma la posizione imponente della vostra squadra. A questo punto ha tre punti dall'Olympic, non so adesso che cosa Fabio ha fatto l'Olympic. Gioca dopo di noi. Gioca dopo di voi. Noi pensiamo a noi, poi gli altri... Ecco esatto, diciamo la differenza. Però questa è in zona pre-off, quindi in realtà questa zona pre-off vi induce praticamente a fare i pre-off in realtà. Come saranno questi pre-off alla fine, secondo me? Sicuramente, innanzitutto ancora non è finito il campionato. Però siamo in una buona posizione. Le pre-off saranno duri sicuramente. Ci sono tante squadre forti. Anche noi, anche noi diciamo la nostra sicuramente. Oggi veramente la nostra squadra ha dimostrato con grande raffinatezza e classe un gioco da mondiale, possiamo dire, dei gol da mondiale. Davvero alla grande. Sì, abbiamo giocato bene. Abbiamo un gruppo fantastico. I ragazzi sono tutti bravi, sono dei bravi calciatori. La panchina funziona molto bene, l'ingresso di Maresca l'ha dimostrato anche quello di Bursa. Sì, mi fa piacere per Bruno, che è un ragazzo che è ripreso da poco, è stato infortunato come tanti altri. Bursa è un veterano, gioca sempre bene ogni volta che entra. Però sono contento per i ragazzi perché lo meritano ed è veramente un bel gruppo. Sono veramente bravi. Non posso essere altro che contento.